Questi sono lupi, quelli che a me mi portano via al futuro. Fategli le foto, le devono vedere tutte. Ha caricato in auto la carcassa di una pecore e l'ha scaricata a pochi passi dalla statua di Guido Monaco nel cuore del centro storico Aretino. Un gesto di protesta eglatante, quello di un allevatore di Ponticino. Perché c'è differenza tra vederla dietro uno schermo e vederla dal vivo? Perché era sbragata, era distrutta, era mangiata completamente. L'animale faceva parte del suo allevamento nell'azienda che si occupa di produzione di latte nelle campagne della frazione Aretina, a meno di un chilometro dal centro del paese. Era stata uccisa poche ore prima da un lupo. Il problema è che non ha più paura. Cioè questo che a me mi fa, mi mette l'angoscia. È talmente abituato alle persone, ai rumori. Poi, oh, prima il lupo stava a montagna, ora il lupo sta dentro il paese. È la seconda volta, lo scorso agosto, 17 gli animali uccisi da un attacco di lupi sotto gli occhi dell'allevatore. Dopo questo episodio aveva ricevuto l'indennizzo per il danno subito. Ma io con le pecora non ce l'ho più. Nel momento in cui io ho il danno, io non è che perdo la pecora. Perdo tutta la produzione che lei mi avrebbe potuto fare nel corso di un anno oppure negli anni a venire. Quello che dico io, non voglio che i lupi vengano sterminati, ma che gli venga data una bella ridimensionata. Tanta la rabbia e l'esasperazione per gli attacchi ricevuti, ma cresce anche la paura. Se io devo arrivare a vivere così con l'angoscia, cioè, ma che vita faccio? Perché però allevare ancora pecore? Perché ce l'hai nel sangue. Noi, cioè, ci siamo nati così.